Assessore, in questi mesi sono aumentate anche le chiamate dei cittadini verso i vigili? Alla centrale operativa della Polizia Locale arrivano molte più chiamate rispetto ai mesi precedenti. Sono chiamate relative a tutte le situazioni di degrado, di insicurezza urbana che sono segnalate da cittadini che oggi sanno che c'è, oltre all'amministrazione, ma soprattutto un corpo di Polizia Locale spinto e riorganizzato ad ascoltarle e a dare risposte e di fatti la soddisfazione dei cittadini magari non è sempre sul risultato, nel senso che magari la situazione di degrado c'è ancora, ma sulla risposta, non solo scritta che ovviamente è ovvio e normale, ma anche operativa, vedono le pattuglie che sulla richiesta dei cittadini si muovono e intervengono. Ma non parlo delle segnalazioni classiche, l'accattonaggio, i nomadi, i parcheggiatori abusivi, i rifiuti, inconvenienti sul verde, il disturbo della quiete pubblica che è un grosso problema. Parlo anche di piccole segnalazioni, l'albero che sta cadendo, il cartello, la buca eccetera. Stiamo cercando di migliorare anche il rapporto di risposta del servizio manutenzioni, il settore manutenzioni stradali, perché anche quella è una cosa importante, e la rastrelliera per i ragazzini davanti alla scuola. Sono piccole cose che però fanno la differenza sul rapporto col cittadino, tra l'amministrazione e in particolare la polizia locale. E' anche questa una delle priorità che il sindaco si è preso per dare risposte e avere un front office che funziona. Dobbiamo migliorare molte cose, questo è indubbio, adesso partirà fra qualche settimana la riorganizzazione, quindi una centrale operativa più potenziata ci metterà nelle condizioni da risposte anche più rapide. Però è significativo che sostanzialmente, a sintesi di questo, ci sia un cambio di rotta con cittadini che riprendono fiducia non solo nell'amministrazione, ma in particolare nella polizia locale, spesso dileggiata come solamente un settore che fa multe e basta, le multe non le stanno proprio facendo come soste vietate, pochissime, lo fanno gli ausiliari del traffico e invece c'è un servizio sempre maggiore con risposte che tendono a migliorare. E' all'incirca un generico raddoppio, lo possiamo vedere da questi numeri, in alcune voci siamo quasi al raddoppio delle chiamate. Uno potrebbe anche leggere all'incontrario, ma se sono più chiamate vuol dire che la situazione è peggiore, ovviamente non è così perché spesso sono chiamate per cose vecchie in cui ti dicono abbiamo fatto l'ultima volta una segnalazione tre anni fa, ci siamo stancati e magari poi la risolviamo nel giro di una giornata, in qualche caso quando siamo bravi o fortunati, in altri no, bisogna costruire percorsi più chiari. Però c'è assolutamente un segnale positivo, un'amministrazione che ascolta e che cerca di dare risposte.